Il primo esercizio che vi propongo stamattina è un esercizio di respirazione. La respirazione è fondamentale per il canto, ma per la musica in generale la musica deve respirare. Quindi provate a fare qualche esercizio di quelli soliti preparatori, abbassare le spalle, sentire la respirazione diaframmatica. Poi mettete una canzone che vi piace, una canzone che state ascoltando in questo momento e provate a mettere in sintonia il vostro respiro con il respiro della canzone. Ascoltate la canzone, ascoltate il vostro respiro, sentite le frasi musicali e fate respirare il vostro corpo in sintonia con la musica. Vedrete che è un esercizio molto semplice, molto rilassante e che vi farà vedere e sentire la musica sotto una luce diversa alla quale forse non avevate ancora pensato. Buona giornata e buon divertimento.